Tempo di feste e di allestimenti natalizi, periodo che per la Guardia di Finanza di Peso Urbino e la Compagna di Fano si traduce in una intensificazione di controlli nella rete commerciale. Controlli che hanno portato al sequestro di 68.400 prodotti non conformi alla vendita, molti dei quali proprio addobbi natalizi. Sequestri effettuati soprattutto in un bazar cinese a Gradara e in un supermercato di Fano. Qui sono stati trovati prodotti risultati non conformi ai requisiti minimi di sicurezza e delle informazioni previsti dal codice del consumo. Sequestrati addobbi ma anche articoli di ferramenta, da cucina, di elettronica e per animali, tutti privi delle avvertenze di sicurezza e della composizione merceologica. Indicazioni che sono obbligatorie e che devono apparire su confezioni o etichette e che garantiscono che il prodotto non sia stato fabbricato con sostanze potenzialmente dannose per la salute. I prodotti sono stati ritirati dal mercato dalle fiamme gialle e responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative che prevedono multe fino a 25.800 euro.